Se vuoi imparare a dipingere, devi iniziare dalla natura e lasciarti guidare da un vero maestro della pittura. Natura morta, olio su tela, dal vero. Le luci qui giocano un ruolo fondamentale così come il nostro supporto che abbiamo preparato con un fondo neutro perché ricordatevi non si dipinge mai su una tela bianca. L'Italia è la grande maestra della pittura e se anche tu vuoi imparare a dipingere seriamente, contattami e parliamolo insieme. Grazie a tutti.